Con la mobilità 2019-2022 le fasi dei trasferimenti saranno tre. La prima fase riguarderà i trasferimenti all'interno dello stesso comune di titolarità e per cui ci sarà anche un vincolo triennale per chi verrà soddisfatto in questo tipo di mobilità. La seconda fase sarà tra comuni diversi ma della stessa provincia di titolarità. La terza e ultima fase riguarderà i trasferimenti interprovinciali e la mobilità professionale, cioè i passaggi di ruolo e i passaggi di cattedra. Proprio in questa terza fase, che avviene a conclusione delle prime due fasi, ci sarà il 50% delle cattedre disponibili dopo la prima e seconda fase, verrà destinata ai trasferimenti interprovinciali e alla mobilità professionale, quindi ai passaggi di cattedra e passaggi di ruolo. In particolar modo le aliquote di questa terza fase saranno per il 2019-2020 il 40% andrà ai trasferimenti interprovinciali e solamente il 10% alla mobilità professionale. Invece il 30% andrà ai trasferimenti interprovinciali, mentre il 20% alla mobilità professionale. In ultimo per l'anno scolastico 2021-2022 la percentuale del 50% sarà divisa perfettamente a metà, il 25% andrà ai trasferimenti interprovinciali, mentre l'altro 25% alla mobilità professionale. inizio 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 Grazie a tutti